salve a tutti i miei cari zecchini e ben ritrovati in questo nuovo video nel secondo video di house flipper giusto ricordare bene anche il nome come vedete ho già sistemato un po la casa chiudi la porta ho sistemato messo il letto messo la diattorella giù vicino il letto perché me la notte ho freddo ho sistemato un po il bagno vedete ho già speso anche un po di soldi un po troppi però vabbè sono soldi che vanno spesi basso un po l'audio qui nelle cuffie perché sennò inizia a urlare poi dopo elix mi dice che urlano gli orecchi e non va bene andiamo subito a vedere se c'è qualcosa da fare perché c'è da fare dei soldi tre tre marco saponetta preparativi per l'arrivo di un nuovo membro della famiglia la bellissima la mia bellissima moglie finalmente incinta non ci interessa e ora siamo più impegnati che mai ma anche molto felici non so da dove cominciare ci sono così tante cose che devono essere fatte prima che nasca la mia principessa sappiamo già 100 per cento che sarà una femminuccia abbiamo comprato una graziosa casetta per noi tre non ci interessa sfortunatamente va pulita adeguatamente preparata una stanza per la bambina spero di poterti affidare la sistemazione della casa ti sto anche chiedendo di preparare la stanza comprando un lettino un fasciatoio forse dei giocattoli dipende da te dipendo da te in questa faccenda assicurati di dipingere le pareti della stanza dalla nostra principessa di rosa pastello grazie in anticipo per il tuo aiuto con dei saluti accettiamo accettiamo ho già visto l'interno della casa dalla mappatura mi pare monnezzaro fammi vedere mamma mia cosa hanno comprato pulisco allora prima pulisco tutto facciamo così e poi cioè prima tolgo tutto ok questa quale sarà la stanza bambina quella davanti all'entrata no e c'è scritto lettino per bambini scaffale cioè la camera della bimba la scelgo io quale fare mamma mia ma cosa hanno comprato stiglie ste schifezze via 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 comunque ho già fatto un upgrade del pennello dopo prendiamo il mocio diamo a sistemata questa è la cucina e poi apriamo una porta alla volta è questo ammonezzaro non c'è a buttar via niente chiudiamo apriamo di qua altra monnezza e sì è questa via camera da letto grande quindi ciò dice da solo come si fa fa il letto a ok prendiamoci il nostro mocio e iniziamo a dare una cinciata ovviamente bisogna andarci sopra le macchie se no qui non ce la fa io voglio non vedo l'ora di avere il mocio più più potente che già che questo potete pulisce anche muri ragazzi non so se avete visto guarda qua tac no il muro non pulisce e come faccio a pulire il muro ma sì che lo deve pulire pulisce tutto pulisce anche davanzale la finestra no perché si fa con altre cose però pulisce mobili vedete puliva anche il letto se glielo passavo qui ci sono ragnatele qualcosa non mi pare pulizia di qui è fatta qui mi vada una genciata apriamo il bagno genciamo tutto poi bisogna vedere i progressi ogni volta del gioco ovviamente ecco vedi dietro le porte vedi non posso ancora piastrellare purtroppo ma farò anche quelli imparerò anche quello piano piano sono gli avanzamenti che ti da gioco ragnatele in giro non ce n'è apriamo di qui chiudiamo e apriamo di qua e subito una bella pulita in cima al bancone in cima la ok a posto bisogna subito cenciare bene in terra in cima in cima qua perché se c'ha vomitato allora a posto a posto anche qui di fianco qui salgo anche in cima a tavolino mi interessa scendo e via pulire pulire ma da qui contro qui che lo zume che c'è però dietro ai mobili ora come faccio io a sapere dovrei spostare il mobile ma dopo qui mi pare tutto pulito l'agnatele non ce n'è tutto lo zume è solo in terra non ho chiuso questa porta qui giusto il corridoio puliamo l'ammodino poi qui si può fare anche le gli upgrade per fare il giardiniere posso fare tutto posso fare il giardiniere posso fare chissà se potrà fare mai il meccanico qui una genciata ci va data sulla soglia qua non l'ho pulita mi toccare aprire la porta no va bene e andiamo a fare la stanza dalla bimba dai partiamo subito con la stanza dalla bimba ho già preso la pistola per vendere gli oggetti quindi posso vendere e che cambiarli il mio budget quant'è 26 mila 400 perché questo non viene via si viene via ma ci vuole un po di più con calma con calma puliremo tutto pulisci lo sporco come 30 per cento 34 cioè il 70 per cento lo sporco non è nella camera di questa povera bimba poverina a in cima di avanzali giusto giusto pieno te lo scordai ma i muri qui non mi si puliscono c'ho una mosca moscerino qualcosa mi giro intorno ora lo mangio lo mangio ah guarda qui lo zume c'è qui 68 per cento 72 per cento e dove e dov'è tutto è il muro ma il muro perché non me lo fai dai ma mi dà sempre stanno 75 79 e questo muro qui non me lo fa che devo fare io perché il muro qui non me lo fa ha il cencio anche qui sopra 100 per cento che pulisci la finestra e lava finestra con questa cosa qua velocemente va ora imparato anche a farlo più veloce guarda però pulisci ce ne sono due da pulire non è vero comparato a farlo più velocemente scherzavo è perché non sono sicuro che questa cosa fa pulisca bene ma pulisce benissimo dai a modo su mi rimane questo angolo qui ok questo angolo qui eh però io ci vedo male non so come vedete voi a video io qua così ci vedo male però dovrebbe fermarsi da solo quando è pulita dove rimane la patacca eccola si la apro perché gli do un po di e santo dio come grossa questa allora facciamo così a girare devo trovare il modo per pulire le finestre in maniera veloce e non l'ho ancora trovato così ok poi picchia il mouse contro la tastiera questo angolino qui che se non casino questa qui è sempre una finestra scorrevole mi pare più una finestra di quelle battente guarda qua c'è un angolino fallo si ma non c'ho più tavolino è da passare il mouse su ok questa non si può aprire ok dipingi con i colori rosa pastello dipingi con i colori rosa pastello dove stanno i colori ah li devo comprare e io pago no prendo l'age perché ci sono rimasto fregato ieri acquista poggia qui in mezzo alla via no uno per ora vediamo se uno abbasta ok inzuppiamo bene e via ho messo già il coso che si può pitturare il 25 per cento più veloce io pitturo anche sotto qui ovviamente però scusa se ci metto il lettino chi se ne frega di pitturare dietro il paretino ci metto davanti qualcosa a vedi e sì adesso è sì più veloce è molto più veloce ieri non si fermava invece ora si ferma luigi pittura anche dietro i mobili e se non sapevate pittura che con mobile così senza spostava anche dietro i radiatori mie ale basta far così pittura fino a fondo o da dimmi che mi basta la pittura posso dargliene un'altra no qui basta sopra che anche la corrente senza pitturarla hai visto essere bravo manca l'86 per cento ah guarda non sape neanche spostare il mobile perché fa lassù e lui pittura tutto in cima e fondo io glielo lascerei quasi lì il mobile se no se si può spostare in un altro angolo no perché ci sono le prese bisogna bisogna considerare anche le prese sono le prese intera laggiù vedi qui e qui e qui e quindi il mobile lì deve lasciare deve stare lì ci viene un'altra sì neanche altre due cento ok adesso una volta fatto questo che non mi ricordo come si fa si fa così e la vendi e l'affare fatto visto ora compra l'oggetto 5 lettino per bambini vedi qua vi dice già quello che ci vuole lettino per bambini questo guida 93 va bene azzurro no perché poverina è la bambina e glielo prendo bianco rosa non c'è il lettino per i bimbi glielo mettiamo qui precisa ok scaffale cal a ok uno scaffale cal dove glielo mettiamo uno scaffale cal indietro non ci va più fatto dopo il fasciatoio voleva armadietto con fasciatoio acquista ora questo va sotto le finestre di solito giusto qui c'è radiatore ma qui no a me e lo metterei qui ok cos'altro bisogna comprare questi esigenti la pittura ho già preso compra l'oggetto il puff ma si dai compriamoglielo viola rosso ma un rosa non c'è lilla ma si compriamo il puff lilla glielo mettiamo un bel puff lilla basta avete fatto spendere anche troppo due ce ne vuole e te ne comprerò un altro l'altro glielo metto vicino al letto dai lì a posto basta ora ha già fatto spendere anche troppo ok quindi chiudiamo usciamo da qua ok no questo non lo fa basta la camera penso sia sistemata no beh ho concluso già l'ordine mi dice quindi io concludo l'ordine termina e vediamo cioè ho concluso l'ordine c'ho 29 mila di di saldo che non è male browser cos'è io posso comprare le case e poi le rimoderno le rivendo e faccio soldi però 29 mila c'ho adesso di budget quindi no da acquistare ce ne 36 bene ragazzi per questo video è tutto oggi abbiamo pitturato anche la stanza di una bambina fatemi sapere se la serie vi piace qua sotto con un commento con un like se la devo continuare a portare la continuerò a portare perché mi piace però anche voi fatevi vedere il vostro supporto noi ci vediamo nel prossimo video vi ricordo anche di iscrivervi al canale di lady back aprirà lassù adesso da quel lato la lassù e niente ci vediamo nel prossimo video ciao zechini